Esatto, vedi che poi ti dici di attivare il timer Marco Red, French Throwdown 2018, categoria Intermediate Man, Senior, WOD 4, Qualifier Bilanciere, 20 kg Primo disco, 10 kg Poi fai vedere anche questi, 5 kg 10 kg 5 kg Qua uguale Poi vedere bene, sempre 10, e 5, ok, 2 Sì, raga Alterza Mi fai vedere che parte da terra, torna subito Ok, esatto Sto pronti led? Sì Parto con countdown 5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! 6, 4, 3, 2, 1, GO! 6, 4, 3, 2, 1, GO! 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 23, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 22, 23, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 22, 23, 22, 22 ... ... ... ... ... Bacchie! Dove rimanere incontrato anche il bilanciere sempre Parking! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.